Amici buongiorno, un saluto da parte di Uccio De Santis, è dura per tutti ma passerà, io sono molto ottimista e volevo oggi aprire una parentesi per il progetto Mafalda di Cerignola. Il progetto Mafalda io ho fatto tanti spettacoli gli anni passati perché insomma è sempre importante fare beneficenza, donare qualcosa alle parti di oncologia. Ovviamente i teatri sono chiusi, non si può fare nulla di tutto questo, il progetto Mafalda non è fermo ma chiede il vostro aiuto, l'aiuto degli imprenditori, non con i soldi, sottolineo non con i soldi ma con la raccolta degli alimenti, dei beni di prima necessità, delle mascherine quindi mi rivolgo a tutti gli imprenditori, se possiamo raccogliere questi alimenti, i beni di prima necessità facciamolo a Cerignola in via Grassano, tutto quello che sarà raccolto sarà elencato, è importante dire questo, è distribuito alle parrocchie. Progetto Mafalda a Cerignola in via Grassano al numero 8, ecco vedi già arriva il primo che starà consegnando qualcosa. Grazie!